Jake! Benvenuto in prigione! La guardia! Ron! E l'altra guardia! Che succede? Ragazzi, calmate i vostri superpoteri! E voi, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale! Ron, ridammi le chiavi! Scusa, Sara! Agente Sara! Sì, capo! Questi sono materiali top secret! Nascondili! Sì, capo! Non ci sta! Vediamo cosa! Cosa? Un simple dimple? Cosa c'è di top secret? Oh, luce! Cos'è? Wow! Vediamo come funziona! La mela è di nuovo intera? E posso tornare indietro nel tempo! Potrei essere in grado di rimuovere il muro! Proverò di nuovo! No, non funziona! Ma sono riuscito a riportare Jake alla sua infanzia! Chi sta piangendo? Tranquillo, tesoro! Calmati! Guarda, è un simple dimple! Jake! Cosa pensi di fare? Un nuovo superpotere? Lo voglio! Ehi, cucchiaino! Lasciami in pace! E cosa vuole questa ciotola da me? Una tazza mi sta baciando! Gli avi della cella, venite a me! Sì! Ai! Anche le sbarre mi amano! Il magnetico Ron non potrà più scappare ora! Lo premo ancora! Ai! Il mio superpotere! Cosa posso fare? Niente! Wow! Sbatto le palpebre e la roba scompare! Ehi, Ron! Guarda cosa posso fare! Ops! Scusa, amico! Non volevo! Ehi, dov'è Ron? Jake, cosa hai fatto? Non sbattere le palpebre! Combatti, Jake! Lavora sulle tue palpebre! Wow! Ora sono superforte! Controlliamo su un sacco da box! Ah, un bel colpo! Ma dov'è il sacco? Ai! Che succede? Il mio lavoro è così stressante! Che succede, Ron? Quale superpotere hai questa volta? Non lo so! Credo di non averne uno! Wow! Sei diventato me! Guardati allo specchio! Wow! Posso trasformarmi in chiunque! Anche nella guardia! Così potrò uscire! Aspetta! Ops! Ron si è trasformato in un pop-it! Un altro pop-it? Ma ne ho già uno! Ecco, Jake! Puoi giocare! Ops! Scusa, Ron! Perché? Il magico Simple Dimpol è di nuovo attivo! Vediamo che superpoteri avrò! No! Niente! Wow! Posso teletrasportarmi! È ora di pranzo! Ancora farina d'avena! No! Ron, puoi fare di meglio! Un panino? Grande! Ehi! Posso fare ancora meglio! Adoro gli snack! Aspetta! Posso fuggire dalla prigione! È ora di uscire da qui! Aggrappati a me! Di nuovo! Forza! Qualcosa non funziona! Amico, torna nella tua cella! Wow! Abbiamo un nuovo direttore! La gente Jennifer è qui per servire! questa missione top secret è cruciale buona fortuna, agente chissà cosa c'è qui dentro un simple dimple e questo sarebbe top secret oh sì, vieni da me sento che è qualcosa di grande ehi Ron tirami il dito wow, ho trasformato il mio compagno di cella in un cane ti chiamerò mini Ron e mi prenderò cura di te sogni d'oro, mini Ron oh, il mini Ron è tornato il Ron normale svegliati amico, non sei più un cane vai nella tua cella wow, posso controllare il fuoco brucerò queste sbarre sì, un po' di più ahi, il potere ha sparito questa è un ostione di terzo grado devo raffreddarmi subito che bella sensazione che ti succede? ah, fa troppo caldo voglio rinfrescarmi che schifo Ron, ho un regalo per te oh no ho dimenticato le chiavi wow, un simple dimple gigante deve essere super potente proviamolo, Jake che mi succede? sono una ragazza calda e io una ragazza fredda e anche una ragazza intelligente sono libera non darò via il mio simple dimple è mio ops, abbiamo finito il potere Ron, sei così bello Jake, ma ti sei guardato? ragazzi, siete così adorabili devo farvi una foto wow, questo è il potere dei simple dimple oh, amico sembrano brufoli giganti controlliamo i miei poteri oh no i simple dimple stanno per schiacciarmi qualcuno mi aiuti non voglio morire cosa stai festeggiando? buon compleanno, Ron è per me? grazie e pulisci tutto sta arrivando la guardia avremo dei nuovi super poteri dai, sbrigati cosa sarà questa volta? non riusciamo a tenere il passo è troppo veloce potresti rallentare? sono esausto voglio solo un super potere riposare basta capo? amico, è finita sì, finalmente saremo di nuovo detenuti regolari ecco il suo materiale top secret non ho toccato nulla ecco i suoi nuovi materiali certo, capo farò del mio meglio vediamo cosa c'è solo un pop it cosa c'è di top secret? non questo non di nuovo ti sono piaciuti i nostri super poteri in prigione? allora scrivi qui sotto quale super potere vorresti avere e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom ciao 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 ciao